Stornello oggetto anticipato da Selenedete che va al comando parte molto bene Raptor Amnis che punta in avanti e così il buon Vitiello leader nei confronti di Raptor che viene a chiedere strada nelle prime posizioni di lancio Dar si completa il lancio in 15 e mezzo e il dottorino Corrado a chiedere strada lo sta ottenendo gradatamente da Selenedete ora lunga fila indiana sullo slancio galoppa Selenedete 29,7 e 400 e il 4 subito a tabellone così Raptor al comando anche l'uno ha problemi e si va sulla seconda curva 600 iniziali in 45 e mezzo in seconda posizione è proprio l'ottimo Zack Zack con il targato S Saks così si va al completamento della piegata per linee esterne vediamo Simioli che si migliora partito bene con Spitfire 1,1,9 il mezzo miglia e il Zack Zack fa una mezza ruota con il suo targato AS e si affaccia sul Raptor che deve allungare l'uno, il quattro, il quattordici e tre praticamente fuori corsa 16,6 il primo chilometro e cavalli che affrontano la penultima curva con l'handoverall di Zack Zack alle prese con Raptor di dentro e rilancio dar a largo Spitfire Gar si va di fronte 15 e mezzo in piegata così non varino le posizioni Zack si riaffaccia bene e impegna Raptor Amnys che si difende ancora 14,2 di fronte 500 alla meta si avvicina Spitfire Saks impegna a fondo Raptor intensifica gli attacchi ci va a completare il miglio si affaccia Spitfire due minuti e qualche spicciolo il miglio viene via Spitfire intanto Saks appariglia Raptor i tre si giocano la vittoria retta d'arrivo Raptor Saks in diagonale Spitfire allunga Raptor si prova Saks si prova Spitfire ed è il più incisivo ma qualche problemino si riprende zona traguardo Spitfire Gar Raptor Amnys Saks AS uno 15 e 7 ancora una volta l'ottimo Simioli si afferma con questo targato Gar numero 11 Raff Palomba leggiamo al training Ciro Polesi di proprietà ma Simioli in salchi bene Raptor Amnys con il dottorino Corrado bene anche Zack Zack con questo Saks AS quarto vicino un samurai da seguire per la prossima il totalizzatore Borbotta 572 linea lo studio